Due società di capitali, entrambe i discicli, sono finite nel mirino della Guardia di Finanza per una maxitruffa di 300.000 euro, finiti sotto accusa un gruppo di sette imprenditori che avrebbero escogitato un ingegnoso quanto semplice sistema di malaffare. Avrebbero infatti costituito ad hoc due società, aventi apparentemente fini di sostegno e supporto per le aziende agricole Iblè in difficoltà, alle quali si sarebbero presentati millantando decennale esperienza nel settore, conoscenze e collegamenti con intermediari della grande distribuzione e perfino con personaggi ben inseriti nello stato del Vaticano, convincendo così gli ignari agricoltori a cedere tutto il raccolto con la promessa di trasformarle in moneta. Decine malcapitati caduti nella rete della truffa e diverse migliaia di chilogrammi tra frutte d'ortaggi spariti e venduti in nero. L'inchiesta scaturita da alcuni esposti presentati da un consorcio di imprenditori agricoli è stata coordinata dalla procura di Ragusa e diretta dagli investigatori della tenenza della Guardia di Finanza di Modica. Alla denuncia penale faranno ora seguita cura dei finanzieri necessari accertamenti di natura fiscale nei confronti delle due società che hanno operato in completa evasione delle imposte. I sette soggetti finiti sotto accusa dovranno ora rispondere di truffa e appropriazione in debita.